E' terminato nel pomeriggio il sopralluogo all'interno della Sabino Esplodenti di Casalbordino, nella zona dove ieri c'è stata l'esplosione costata la vita a Paolo Pepe, 45 anni di Pollutri, Carlo Spinelli, 54 anni di Casalbordino e Nicola Colameo, 46 anni di Guilmi. I loro corpi sono stati recuperati dai soccorritori, una volta completata la bonifica e la messa in sicurezza da parte degli artificieri dei carabinieri e dei vigili del fuoco. E' stata effettuata anche la ricondizione da parte del procuratore capo di Vasto Giampiero Di Florio, del PM che coordina le indagini Gabriella De Lucia e del medico legale Pietro Falcom, che ha effettuato la ricondizione cadaverica. Al termine, le tre salme sono state trasferite a Chieti presso l'Istituto di Medicina Legale, dove, dopo l'affidamento da parte dell'autorità giudiziaria, verrà effettuata l'autopsia. Intanto a Casalbordino, Guilmi e Pollutri, piccole comunità del Chietino, dove si conoscono praticamente tutti, c'è sgomento e incredulità. Il Natale, già segnato dal Covid, ora è diventato ancora più cupo. Già da ieri a Pollutri, il sindaco Nicola Mario Di Carlo ha dato disposizioni per far spegnere tutte le luminarie e nel giorno dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino. Stessa cosa accadrà anche negli altri comuni. Ma accanto al cordoglio e alle lacrime c'è chi, come il segretario di Rifondazione Comunista, Maurizio Cerbo, chiede chiarezza anche su come sia stata applicata la direttiva Seveso per i siti a rischio di incidente rilevante. Quanto accaduto ieri a Casalbordino, dice ancora Cerbo, riporta alla luce la questione prevenzione in Abruzzo, assolutamente sottovalutata da parte di prefetture, comuni e amministrazioni pubbliche, conclude il segretario del PRC.